Vuoi soddisfare le esigenze di investimento del risparmio e al tempo stesso contare su un'importante copertura assicurativa? Selezioniamo per i nostri clienti il meglio dai mercati finanziari. Scopri PosteVita Soluzione Flessibile. Uno strumento dinamico e flessibile per diversificare il tuo portafoglio con il fondo interno assicurativo, gestito da un partner prestigioso. In più puoi beneficiare della tranquillità di un'importante copertura assicurativa. PosteVita Soluzione Flessibile. La soluzione per la gestione dei tuoi risparmi è qui. Scopri di più negli uffici postali. Messaggio pubblicitario prima dell'adesione leggere il prospetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti